Bentornati nel torneo WGF number two, nel number one, cosa mi avete detto voi frignando nei commenti? Lion vuoi sempre vincere tu, i tuoi amici gli hai detto di non attaccare. Allora oggi ve l'ho detto, dovete uccidere, avete capito? Gli occhi iniettati di saio. Poi se sono delle seghe con i pedali, non è colpa mia però. Non mi lasci l'occhio ai piedi perché non sono capace! Vedete pronto? E vediamo come funziona. Lion! Sì, sì, è tua madre, qualcosa di tua madre. Ti andrebbe di trasformare questo momento epico in una nostra avventura privata! Ma se non c'è manco in squadra con lui? Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Allora, unica regola del torneo, unica regola del torneo, le squadre si affrontano una v una, tutto è contro di me, ok? Perché altrimenti io vedo l'azione e non vedo l'azione, voglio vedere l'azione, voglio essere al certo. Eh, aspetta, non lo... Oh no, la mette là! Sono in squadra corrente e non so giocare! Aspetta, allora, ragazzi, però, eh... Allora, uno alla volta, quindi la prima che ci sta challengeando, Anna, è la squadra di Red e Stregatto. E siamo già pronti! Ma Red, ma fai schifo! È morto, è morto, aspetta! Stregatto, hai rischiato, eh, con quelle chiappe luide. Anna, attenta! Madonna, Anna, ma il pesante! Mamma mia, anche io vado a qualcosa in questo gioco! Ma tu vali assai, eh, attento! Anna, vieni che c'è la squadra di Fè e Mario. Fè e Mario vengono eliminati immediatamente! Oh, sì! Oh! Anna, vai, vai! Cinco palò! Cinco palò! Prendimi un lì! Mamma mia! Mamma mia! Aspetta, che giustamente a me mi piace, tra un round e l'altro, chiedo pausa un attimo, di lanciare qualche sporca. Quindi, eh, chi è la prima squadra che ho nuclearizzato? Ci sono noi per primi! Ok, allora, voglio sentire un attimo che vi sculacciate da soli, per favore. Oh, ma Red! Perché se c'è di... Eh, ma Stregatto! Stregatto se le tirate da me! Mmm! Che porto! Adesso... Aspetta, eh, chi era l'altra squadra? Non ricordo. No, i Mario, nessuno! Fai sentire come mangiate i funghi insieme in cop. No, no, no! Ok, il tempo è finito. Adesso è arrivato il momento di uccidere l'ora. Sì? Preparaghera! Mussare una battaglia titanica! Ah, tra schia! Sgotitan! Dov'è la battaglia titanica? Dov'è la battaglia titanica? S私o he cancellato la battaglia titanica! Eh! Eh! Stefano! Perché non afferri un grosso a c****ход e lo mangi! Eh? Tanto sai fare solo quello sai fare Uno dei tanti che girano a casa tua Vai vai imbecille Oh cretino Io voglio cambiare team però Non è giusto Ci sono veramente Chi vuole cambiare team? Io Anche tu Perché? È troppo forte Si vince subito Allora Ci vengo io con te Perché non me? Tu Stefano vuoi cambiare team con Alex? Non ti piace? Ti prego non lo voglio Alex Ok Ragazzi è giusto Allora Alex con Red Nemesis è stranato Metalmavio e Spina Va bene? Molto meglio di Spina Dai mettete pronto E ripartiamo con una prossima Anna mamma mia Anna Sei sempre l'ultima Sei sempre Fai venire le Zema Le Zema Sempre 1v1 Contro la squadra dove c'è Lion Quindi questa volta con Fai Ma che cosa sei? Sono una pattumiera Lion Perché sei una pattumiera? Perché è il mio bro L'è il preferito La pattumiera E questo la dice lunga Sulla tua infanzia comunque Il giocattolo preferito di Fai Era la Munnez Si rivedeva in lui Un pochino insomma È la prima squadra Eccoli qua Attenta Attento vinceremo 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 Attento Attento Fai Anna Anna Giungala È fortissima È forte È forte Madonna Madonna È forte Anna Siamo ancora contro di lei Siamo ancora contro di lei Attenzione gli altri brawler Si togliano dal mezzo Perché la sfida contro Anna Non è finita È tornato pure io No è tornato pure io Vai Vai Niente Niente Anna è inuccidibile È inuccidibile È inuccidibile Anna È inuccidibile Attento Attento So giungo So giungo So giungo Dai Anna Vai Bravo te Comunque Anna è l'unico vero avversario Gli altri sono carne morta Non ti preoccupare Chi è la seconda squadra Red Va bene Vai Venite Do stai Venite Fatemi prendere Ma quanto non mi pare Quante volte mi pare Attento a fare Mamma mia Aspetta che devo Allora nella squadra di Anna e Mario Non posso dire niente Sono stati forti Specialmente Anna Mario un po' un inutile Ma Anna Forte Ma la squadra che ho ucciso adesso Non ho neanche visto chi è Ma Red Ma non c'è Ma non c'è Ma non c'è Ma non c'è Ma Red Vuole sempre subito Anche quando gioca con te È il più scarso del gruppo Attenzione Allora comunque Possiamo dire una cosa Stefano non attacca Perché non ha le mani Cioè Metaforicamente parlando Egli non ha la capacità di giocare Quindi ragazzi Non dovete scrivere a me Lionman Non gli dici di attaccare Io gli ho detto Te l'ho detto di fare il tuo meglio Me l'hai detto Ma non ci riesco Il suo meglio è questo ragazzi È tutto così È rattrapito Non tocca l'erba Capito È tutto così Poi sputa quando parla Quindi avrà il telefono Tutto in unito No Quello è difficile Sentite come parla Che sputa È uno schifo È uno schifo E poi puzza E tutto che si muove Tipo sembra La scelta Ascoltami bene Ti spido a stare in squadra Con Red Provasi No No grazie Fratello non ti deludo Te lo c'è Non stai con me A posto così Invece vorrei fare Invece che sopravvivenza duo Vorrei fare questo torneo Di farlo diventare singolo Poi alla fine però Determiniamo la vincita Va bene Perché qua non si può eh Allora Singolo Oh che bello Però Mi piace Però io So già che qualcuno Nei commenti Starà pensando Dai ne hai tolto i bot Zitto tua madre è lurida Starà pensando Lion Ma tu così usi Edgard Che è il più forte Se ti piace vincere facile E questo è una verità Che voi state dicendo Ma io posso anche cambiare Perciò non metterò più Questo che è fortissimo Ma metterò Eh chi metti mo Tag Che mi piace Oh c'è lo doro Non è che Ah c'è lo doro C'è lo blu Ma c'è lo blu Non ci cazzo Dai zitto Il pesel told No Allora 1v1 contro di me Quindi Chi non è nell'1v1 Si deve levare dalle palle Perché se no Non funziona Eh Sì 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 Hai sentito Due grosse cose Che cadevano Non mi ricordo più Sono le tue coppe Perché ti sto per rientrare Eh bravo bravo Allora chi è il primo Che vuole sfidare Red Sono mio Dai 10 10 Batti sotto Ti do i pugni È morto È morto Vabbè Comunque È vissuto più di quando È vissuto più di quando Uno poteva aspettarsi Il prossimo è Metal Mavio Dai 10 Hai mancato Stai nei cespugli Sì Hai mancato di nuovo Ma fai troppo dalle Mi vale Sbatti in terra Come ho fatto io a te Devi anche fare Daga Daga attacca così Anna sei la prossima Indovina dove sono Sono proprio qua No Vai via Vai via Possa miseria Anna è forte 10 10 Eh vieni tu 10 E vieni E vieni E vieni Anna è 10 Dai 10 Ho paura Anna Anna non viene Scappa È la lurida Pum 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 E lì ti volevo Ma Alex Fermi tu Fermate il gioco Alex ha detto parolacce No Non ho detto E cosa ti sei messo a strillare Come un demente Da solo allora E l'hai eliminata Facevo il tipo per te Idiota Ma come ti permetti Sono un idiota L'urrido Che mi permetto Di parare Con la mia fogna Spermatozoo Malvenuto No No Scusate ragazzi Era un po' pittoresca Questa Chiedo scusa Ma ormai la lasciamo Chi è il prossimo avversario Io L'ho Affrontami un po' Volentieri Volentieri E prendimi Vieni Sì no Vai vai Fai il tuo peggio Bravo Bravo comunque Bravo Devo dire che ti sei Ma hai tantissimi danni Anche tu sei stato molto forte Chi è il prossimo Grazie Affrontami ora Vieni Dai andiamo Forza Dove sei Proprio qua Vieni tu No no aspetta Aspetta Adesso mi Mi faccio questo Ma non mi scappa Mamma mia Che scherzo C'ero quasi Ma cosa c'eri A puzzare c'eri Alex Alex Ma po' Ammazzato Dai stregato Dai stregato A noi due Vience Vience Madonna fai male Oh Che ho mai messo a me Quella fa male Ma come succhi tu Nessuno Manco la mamma di Ale Cosa ho sentito No Però un succhiare Fai sentire Sei veramente volgare Io chiedo schifo Ma perché sei una zanzara Che schifo Che schifo Ma che schifo Che persona Che brutta cosa Posso dire però Che il torneo singolo Era più bello Ma in ogni caso Attenzione Perché ci sono degli eliminati Come in ogni buon torneo Non è che tutti possono procedere No No eliminato No No dio Ma che no No È giusto È giusto È giusto Non è l'unico però Come non è l'unico Percare la performance Devo eliminare No tu Mario sei tranquillo E sei stato forte Nel complesso Che bello Io ho paura No No Sono finiti gli eliminati Ti prego Per il momento Sono finiti gli eliminati Ma Si procede Oh è funzionoso Si procede Con una nuova duo Oh Sì Con squadre casuali E visto che c'è Fè e Anna insieme Che sono pericolosi Io procedo A cambiare brawler Ti metti Edgar Di nuovo Ma tu Edgar Non ti preoccuparti Aiuto io Va bene Metal Mario Io confido Nella tua possenza Che possa portarmi E mi sento carico Ma io rai Non ti avviso Questo torneo Procedere mi raccomando Voglio vedere il peggio D'ognuno di voi Ragazzi Voglio possenza Stai zitto Fallito Che non sei stato eliminato Solo perché Ti farò mangiare Tutte le tue piantine E pure le mie Non sei stato eliminato Alex Solo perché c'è gente Fa più schifo di te Fallito Eh Nooo Vieni vieni Mario Ecco lì a tetto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Metal Come duro che sei tu Vieni stregato un po' Come siamo forti Ti vado No Mamma mia Sbattiamolo par terra Attento 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 Via dove va Vanno Attento Mario abbiamo un pantano Che è veramente enorme Insieme Mamma mia Proprio che sbatte Si fa una singola Per decidere Chi viene eliminato È solo perché ho preso Quella scarsa Non l'ha eliminato io Lion No E' pronto Pronto Però pronto E' godurioso Qua viene eliminato Qualcun altro ragazzi Ne facciamo altri due eliminati Per il momento I più eliminabili Sono strecato Ma cosa Io sono Hank Sarò Stregato Stregato E basta Stregato fa proprio schifo ragazzi Abbasso strecato Scriviamo nei commenti Bu strecato fa schifo Schifo Stregato No Stregato Mi ero dimenticato che c'era anche Alex Alex fa più schifo No No Hopla Mi scappa Però non sei stato scherzo Sono a caccia Sono tua Vieni Dai attaccami Dai attaccami Attaccami Mi curo Mi curo Sì ti curo io Ti curo No Eh Però sei stato forte Sei troppo forte con questo campione Basta E' lui che è forte Attenzione No No Lei invece Aia Aia Mamma mia Ma com'è Mamma mia Stregato Sei schifosissimo Sei schifosissimo E infatti come hai fatto a non uccidermi dopo Ma no no Non vuole L'hai distrutto Chi rimane Io Dieci Mi manco io che strisce l'urco Nelle Nelle Aiuto No ma no Eccolo che salta Attenzione è fortissima È fortissima È fortissima L'ho accetto L'ho accetto Suono pure la mia trombetta da bicicletta Di cosa sa la sconfitta Red ha detto una cosa che non mi è piaciuta molto Ha detto di cosa sa la sconfitta Questo mi sembra poco sportivo da dire Gravissimo Non togliermi Dovresti provare a chiedere a tua madre di che cosa sa la Perché sicuro ti stai rispondere Stregato mi dispiace Vieni tolto Ma è non stato forte Nei tuoi sogni E Alex ovviamente Già lo sai Già lo sai Già lo sai No no anche contro di me Munnezza È una battomiera Una pianta Ah Red sta prendendo troppo Mi sta insultando No ti prego Eh ma tu hai sbagliato Il povero Mario Tu hai sbagliato Tu hai commesso lo sbaglio Tu hai sbagliato lì Ma te lo sei divorato Vai Fea Ti vedo là io non so che sei là dentro eh Anch'io lo so che sei Guarda come sono uscito a manino eh Eh va bene Fai cose Va bene Guarda Vengo All'improvviso No Eh vengo io all'improvviso Aspetta Sola Pau Pau Mamma mia Preso E' portato nella tomba Eh ma c'è Anna che è forte qua Vai via Che sto prendendo le mie casce Ah ecco perché Anna è forte L'ho capito Perché Anna è forte Via Preso E' via Eh questa volta no Niente Nulla ti ho fatto Come un trappano nel muro Ti ho bucata Allora questa volta Attenzione Attenzione Mi sento Di dover fare Però una squadra Perché sono dubioso Su chi secondo voi Ha perso Poi magari sapete voi Potreste avere anche Delle diverse opinioni Eh rispetto a me Secondo me Ha fatto più schifo Fè Questa volta No come Sto d'accordo Motivo per il quale Non ti voglio in squadra Va bene Fratello i bot I bot No i bot Ma dillo Ma perché non lo dice Perché sono un lurido Disgraziato Ecco perché Ragazzi allora Prima di tutto Non ci si scontra Tra di noi Finché non ci sono Più bot rimasti Uccidete tutti i red Che ci sono in giro Ti corrego fratello Sono molto più forti Di red Tipo per fare un red Ci vogliono 0,002 Eeeh Madavia Questo è un bot Questo era particolarmente scarso È vero Senta questo Vabbè Si fanno Si fanno Si fanno Sono proprio scarsi Ma io ho morto dei bot Il mio compagno è morto dei bot No no Io non so No non è vero No mentono Non ti ho visto che stavavi No no Questo è il cavo Scusa volevo uccidere il bot Ti esi esplodi Adesso esplodi te però No esplodi E' qua No Anna Mi curo Seggalo 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 Anna Seggalo Sei scappato Sei scappato Mamma mia Di dove sei scappato Mamma mia Che dura Fai sentire come succhi Io Eh si No ma questo no Succhiare si intende fare schifo nel gioco Dovevi fare i rumori del gioco Tipo click Stop Stop No Stop Eh si Ho capito Allora Mi spiace No 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 Allora no Parliamone Per favore Parliamone Dobbiamo mettere la singola Prima mi hai sconfitto una volta Attenzione Userò il mio più forte Dobbiamo togliere di nuovo i bot Porca di quella puzzetta No No Ecco qui Ragazzi Per chi scommettete Attenzione Ok Per Anna Io lo scommetto sull'Aion Siccome noi dopo dobbiamo fare un video di Roblox Ragazzi Vi spiego come Qualcuno si è rovesciato dalla sedia Ho sentito Chi è? Si è rovesciato da me Che sono un lorido idiota Un lorido idiota Vabbè Allora Chi scommette Dopo perde E paga in Roblox Nel video di dopo No No Alex Alex era su Anna Chi altro è su Anna? Io Io Controlla di avere un po' di Roblox Fratello Vado a ricaricare Chi scommette su Lion? Io Strecato Mario Ferred Mi sembrava Va bene È giusto comunque È giusto Bisogna Guarda che Anna Ha buone possibilità Anna è fortissima Ti romperà Va bene Vai Anna Grazie Faremo al meglio Al meglio delle tre Al meglio delle tre Vai Aiuto Tanto hai già vinto Vai tranquillo Anna perdi Decid No Anna È al massimo delle tue possibilità Ci pensa proprio Ti schiacciarà Sì ma Non ha speranza È palese Contro quelle piante carniglie Eccola Sì L'hai distrutta Aspetta Qua ha fatto Ha fatto la move Ha fatto la move L'ha fatto L'ha fatto È morta? È ancora viva È di livello più alto di me È di livello più alto di me È morta? No 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 Che miseria È dura È dura Guarda come scappa Anna sei di livello più alto di me Dovresti uccidermi È vero Peccato che non è così Ecco qua No Dai duro come la roccia Dobbiamo fare al meglio delle tre Anna Hold on to your Ho cambiato il personaggio La posta No ti conviene tenerlo Cambio io invece Cambio io Ma sei fatto Ma io non riesco con lui Cambio io Metto fang Vai forte Vai Anna Allora Attenzione Meglio delle tre Perché devo prendere la calce La posta in gioco aumenta Siamo a 2500 robux No ma tu come ho Quanti Perché devo avere il destino di tutta sta gente nelle mie mani Il mio destino Zitto Alex Pagli un acquato Tira la calcio Pagli un acquato E' via Pagli adesso Madonna Pagli Anna Pagli Anna Vai via Tau Vai Tau Vai Anna 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 Se perdi apposta Perché non mi hai fatto cambiare Lui è lento Tu stai giocando al massimo le tue possibilità Ti sto odiando veramente tanto Perché Hai detto No tu devi tenere questo Ma io ti ho detto apposta Vabbè ok allora questa l'annulliamo perché secondo me Anna stava facendo qualcosa di strano No 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 non stavo fa niente Adesso facciamo la testa Perché non hai tirato il terzo colpo L'ho tirato No io non l'ho visto questo terzo colpo Avevo poca vita Lo sei fatto Bisogna stare attenti Quanti fanno vincere apposta Questi fanno schifo Va bene Allora facciamo la terza Il meglio delle tre Chi vuoi me Metti quello che ti piace Oh va bene lui Ah va bene lui Allora adesso va bene Prima non andava bene No va bene comunque Così ti faccio vedere che non mi rompi le scatole Dai dai Fai vedere il tuo peggio Dai io ti sto facendo dei giochi mentali Sei concentrato Infatti non ho capito niente di quello che è successo Ti vuole indivolire fratello Psicologia inversa È tutta una trappola Vabbè eliminalo Vabbè il calcio fratello Vabbè il calcio 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 Ah questo mi avevo dimenticato totalmente di che cosa faceva la sua ultimate Porcazza Sì però Cosa ha un ulti Stupido Il meglio delle tre Siamo a due a uno Questo è per non sapere la matematica Non saper contare Alex Vabbè non c'era neanche senza farla la terza No abbiamo detto tre Perciò E non abbiamo detto che era la bella E che quindi questa chi vince questa vince tutto Non l'abbiamo detto Perciò è perso E Alex deve spendere 2.500 robux E Stefano pure qualcosa Mo se li dividono in qualche modo Tipo Alex 2.500 Anzi Alex 2.490 E Stefano 10 Più o meno Poi ora vediamo Però quest'oggi spero di avervi dato il torneo serio che volevate Non rompete le balle nei commenti Perché se no vi vi disattivo E per oggi è tutto E Lion out Ciao